Allora mister, una vittoria che vi fa salire di categoria, inaspettata forse, una sorpresa diciamo. Sì assolutamente, non ci crediamo neanche noi, però ce la siamo meritata, siamo la squadra che ha vinto le partite in questo campionato, oggi è una partita difficile ma siamo buoni. Oggi è una partita difficile perché la Carcarese è scelta in campo col piglio probabilmente giusto per vincerla e voi vi siete subito, avete un po' rinculato per tenere, per non subire troppo e poi vi siete lasciati andare in contropiede facendo un gol strepitoso con il numero 9 e il rigore poi del 2-0 che ha chiuso definitivamente la partita. Certo, abbiamo visto che il primo tempo eravamo molto in difficoltà e abbiamo pensato di giocare e cambiare un attimo l'assetto tattico per cercare di ripartire e andare a attaccare il loro spazio. Quindi bene, sono soddisfatto perché ho avuto qualche fortuna. Bene, complimenti mister e grazie.